Questa attività vuole illustrare la struttura di un alveare e delle sue celle e per farlo cominceremo da lontano, da un cubo che possiamo vedere anche in questo modo, come ottenuto dall'unione di sei piramidi, piramidi particolari di cui c'è lo sviluppo per riprodurle nel sito del progetto. Per questo cubo e questa piramide nel sito del progetto ci sono gli sviluppi da utilizzare, abbiamo qui evidenziato con colori diversi il modo con cui unirli, naturalmente per poter ottenere l'effetto magnetico è necessario prima di chiudere gli sviluppi e mettere con un nastro adressivo abbastanza forte sul retro un piccolo magnete e una rondella metallica. Vediamo ora cosa accade se queste piramidi le mettiamo fuori del cubo e vediamo cosa otteniamo. È possibile osservare che le facce che si creano sono dei rombi perché questi due triangoli sono complanari. Questo oggetto in realtà si può costruire in un pezzo solo, eccolo, questo si chiama dodecaedro rombico perché ha dodici facce che sono dei rombi. Questo è l'oggetto che ci permetterà di capire la geometria delle api. Per realizzare il dodecaedro rombico abbiamo dei pezzi di due tipi per rendere la costruzione più semplice. con questo pezzo si può costruire una specie di fascia intorno all'oggetto e poi dovremo incollarvi il tetto e la base che abbiamo qui evidenziato con colori diversi per mostrare semplicemente come vanno attaccati. Questo poliedro ha la proprietà di essere capace di tassellare lo spazio, cioè di riempirlo completamente senza vuoti come ad esempio le zollette di zucchero. Ed è proprio da questo poliedro che capiremo la forma delle celle delle api perché se lo tagliamo in modo opportuno troviamo esattamente quella che è la cella di un'ape. Ecco la forma di una celletta di un'ape, si può riconoscere l'esagono che tutti conoscono e la cosa bella è che se se ne fanno tante si possono mettere insieme in due lati come effettivamente accade negli alveari e ottenere un alveare che rappresenta la nostra classe. Grazie a tutti.